Quattro lezioni magistrali offerte alla città come testimonianza di vite e spese alla ricerca della conoscenza e della bellezza. Il premio Napoli 2013, modificando la sua formula tradizionale, rende omaggio a quattro figure cardinali della cultura italiana. Gianluigi Beccaria, celebre linguista e critico letterario, aprirà oggi mercoledì 27 al Maschio Angioino il ciclo di lezioni. Sarà poi la volta del giurista Stefano Rodotà il 4 dicembre e del poeta Fabio Pusterla il 12 dicembre. Chiuderà il 13 Enzo Moscato al Teatro San Ferdinando. Dopo la cerimonia di premiazione, metterà in scena la sua recente opera Napoli 43. Era arrivata in confine della polvere in tutta tranquillità. Ecco tutto. E altro si poteva a pensarne o anche dirne a tal proposito. E c'erano in quella grutta che la specie di vinicolo ricopro dall'orrore delle bombe. Ce n'erano di grandi e di piccoli, di cadaveri. E nella sede del premio Napoli Enzo Moscato ha presentato il suo lavoro poetico Carnaccia, nel peculiare stile polilinguistico dell'autore napoletano, un mosaico di frammenti quasi teatrali consacrato alla memoria di Antone Nartò. Accanto alle lezioni magistrali saranno svolte lezioni anche nelle scuole e nel carcere di Poggio Reale.